Un botte risposta a quello registrato attraverso i canali social nelle ultime ore tra l'attuale sindaco di Nocera Inferiore Maglio Torquato e il candidato in pectora di Nocera al centro Giovanni D'Alessandro. Era stato il primo cittadino ieri sera a parlare di chiarezza in un posto rivolto al professore universitario, rimarcando il fatto che da oltre 20 anni lui viva lontano da Nocera. Le evoluzioni elettorali prossime consentono ormai di tracciare un primo giudizio, scriveva Torquato, me ne arrogo il diritto senza presunzione ma con l'umiltà di chi è passato per tre elezioni vinte e dieci anni da sindaco. Quello che si sta sviluppando in un sedicente centro non mi piace. Giochi contro giochi, alleanze sotto alleanze, fuga in avanti e marcia indietro. E se a sinistra e a destra hanno sbagliato qualcosa, a sinistra l'ostinazione preventiva su un nome, a destra l'ammocchiata indifferenziata con un ex sindaco di centro-sinistra, vale il proverbio che due asini non fanno un cavallo. Cioè che due errori non fanno una cosa giusta. Ebbene al netto di un nome di prestigio come quello di Giovanni D'Alessandro e del tentativo di emanciparsi dai diktat salernitani resta una proposta tardiva. A 60 giorni dal voto, geograficamente sbagliata, il professor D'Alessandro vive infatti a Roma da circa 20 anni, sponsorizzata male. Tanto da far nascere il sospetto che più che costruire voglia rompere. E che più che ad amministrare si stia pensando a giocare con alleanze e tatticismi. Non lesina frecciate al vetriolo torquato quando dice suggerisco ai suoi sponsor di spiegare bene la differenza tra rinnovamento e discontinuità. Magari potrebbe farlo qualche assessore che gli gira intorno e che ha condiviso tutte le scelte di questi 10 o 5 anni di amministrazione. Questo la città non lo merita, dice torquato. Il governo di una comunità non è un gioco. Governare questa comunità ha meritato in questi lunghi 10 anni ogni giorno del nostro sacrificio e del nostro impegno. Non è consentito andare a raccontare che non si avrà poi il tempo di essere sempre a Nocera perché gli impegni trattengono a Roma, ma perché delle due l'una o è incoscienza o è irresponsabilità. Non si è fatta attendere la replica del professore Giovanni D'Alessandro che giudica l'intervento di torquato. Un post autorevolmente pensato e proposto ai cittadini di Nocera Inferiore. Il signor sindaco vuole fare chiarezza e tracciare un primo giudizio sulle evoluzioni elettorali in corso. Forse talunere miniscenze dell'etimo del sostantivo chiarezza lo hanno indotto a proporre delle indicazioni di voto per il seguito dell'attuale amministrazione. Se non che la chiarezza ha anche a che fare con il vero, con la verità, che notoriamente è adeguatio rei et intellectus, come insegna Sant'Omaso, vero corrispondenza tra realtà e pensiero, ragion per cui non dire il vero non è fare chiarezza. Un avvocato penalista sa bene che non dire tutto il vero è come dire il falso, omettere, anche mentire. Lungi da me polemizzare, ma sono rimasto sorpreso che in un post di 526 parole ben 306 siano state dedicate alla mia persona e al progetto politico amministrativo nuovo che ho promosso per il futuro di Nocera. E in tutte queste parole dove si dice che il professor D'Alessandro vive a Roma da circa 20 anni, per l'esattezza sono 23 e che Nocera non merita che si giochi con un sindaco part-time, non si aggiunge che il 7 maggio 2020 sono stato gentilmente invitato a recarmi alla Casa Comunale per un aperitivo. Proprio in quell'occasione mi fu chiesto se fossi interessato a fare il sindaco della città. Io risposi che vivevo a Roma, che certo ho sempre mantenuto i miei legami con Nocera e sono sempre tornato ben volentieri dai miei familiari e amici, ma vivevo a Roma e forse non era opportuno. Mi fu risposto che avrei potuto essere una risorsa per la nostra città, per il mio curriculum e perché sono una persona per bene, di buona famiglia insomma. Adesso che a 10 mesi di distanza ho deciso con tanti amici di metter su un progetto di rinnovamento per ridestare l'orgoglio di essere Nocerini, sono diventato il giocatore, il candidato a sindaco part-time. Una minima risposta era dovuta, giusto per restituire alle parole il loro significato. Se si vuole essere chiari, allora si racconti la verità, tutta la verità. La politica per me si basa sull'educazione e non andrò oltre in eventuali alterchi che i concittadini di Nocera sappiano almeno la verità senza manipolazioni. Tutto questo per chiarezza e come sa bene chi parla con me in questi giorni, se sarò il nuovo sindaco di Nocera tornerò a vivere nella mia città, lasciando Roma.